Sono ancora senza esito le ricerche di Carla Rovaldi, la pensionata di 84 anni scomparsa all'alba di sabato scorso dalla sua abitazione in via Franceschini, a Lido di Fano. Inizialmente, dopo l'ispezione di zona da parte delle forze dell'ordine, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna hanno scandagliato il canale Albani, luogo in cui la donna aveva dichiarato di volersi gettare per farla finita. Una delle ipotesi, infatti, è che l'anziana, autosufficiente ma da tempo depressa, abbia deciso di gettarsi per porre fine alle sofferenze. Aveva dei problemi di salute e per questo ha dovuto subire due delicati interventi, di cui l'ultimo nel 2014. Anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Fano e Pesaro, a bordo di Motovedette, hanno perlustrato fino martedì mattina il tratto tra Fosso Seiore e il Cesano. Per il momento le ricerche in mare si sono fermate, ma l'ufficio circondariale ha allertato le autorità marittime dell'Adriatico. Dopo diversi giorni trascorsi da quel momento, visto che gli sforzi per rintracciarla sono risultati vani, nonostante ricorso a unico scandaglio e ad altre sofisticate attrezzature, la figlia, Mariella, mostrandoci una foto della madre, ha rivolto un appello a tutti coloro che potessero aver visto l'anziana signora. L'84enne è uscita di casa all'alba, indossando solo una vestaglia da letto di color rosa salmone, con una stampa a fiori e le ciabatte a infradito. Infatti pensa che una persona dall'età così avanzata non avrebbe potuto compiere tanta strada, addirittura, ci racconta, non ha portato con sé nemmeno gli occhiali da vista. D'altra parte poi chiede agli operatori commerciali e ai privati in possesso di telecamera circuito chiuso di visionare le immagini registrate nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. Non perde la speranza, Mariella, e chiede altresì di rivolgersi alle forze dell'ordine nel caso in cui qualcuno dovesse aver saputo o visto qualcosa.